Beautiful Day prepara la festa dei nonni. L'iniziativa si svolgerà il 2 ottobre, alle 19 a Vittoria, nella comunità alloggio per anziani Villa Beautiful Day, incontrata da Boscopiano. La serata con gli anziani ospiti sarà animata con musica, giocolerie e degustazioni di ricotta e vedrà la presenza dei familiari e di amici. La festa dei nonni, spiega la responsabile Annalisa Scribano, vedrà protagonisti i nostri anziani, grande risorsa per tutti, verrà fonte di saggezza. La festa dei nonni è il terzo ed ultimo appuntamento di un ciclo di iniziative organizzate dalla cooperativa Beautiful Day, che gestisce alloggio per disabili mentali e per anziani. Le feste di comunità Giungio Scribano sono organizzate con l'obiettivo di mantenere un rapporto costante tra le comunità e le famiglie d'origine, ma soprattutto con la città e il quartiere. Un metodo innovativo che punta a creare momenti in società che vedranno gli ospiti protagoniste all'interno della società civile. Due iniziative si sono già svolte a Pedalino e a Modica. La prima serata si è svolta il 19 settembre a Pedalino, in occasione della Sagra della Vendemmia. È stata denominata Beautiful Street Open Day. La festa e strada era aperta all'intera cittadinanza e ai numerosi visitatori della Sagra. Il secondo appuntamento, invece, è il 27 settembre, con la festa nella città della Contea, organizzata dalla comunità alloggio tulipano. Anche questa giornata aveva come finalità l'integrazione sociale degli ospiti. In dieci anni, spiega il presidente di Beautiful Day, Gianni Salerno, nelle nostre comunità abbiamo accompagnato tanti giovani e meno giovani. Abbiamo dato loro una casa, ad alcuni un lavoretto. Abbiamo cercato di dare un colore nuovo alla loro vita, segnata da tanta sofferenza. Con loro abbiamo capito che la vera cura è amare. La comunità Beautiful Day ha organizzato anche percorsi terapeutici e riabilitativi attraverso l'art therapy, coinvolgendo i ragazzi a narrare le proprie emozioni e frammenti della loro vita attraverso il linguaggio dell'arte. Nell'ultimo anno poi si sono smolte altre iniziative, attività sportive, passeggiate, iniziative ecologiche insieme al WWF, escursione guidata dall'associazione Grotte Alte, visita al Museo di Camarina, all'Infiorata di Noto, al Carnevale 10 Reale. La cooperativa edita anche la rivista semestrale Beautiful Day per raccontare, anche con il giornalismo, la vita delle comunità alloggio per disabili. La cooperativa edita anche la rivista semestrale Beautiful Day per raccontare, anche con il giornalismo, Il giornalismo, ragazzi a marizzo del settore dell'arbetto, anche con il giornalismo, la vita delle comunità alloggio per cosi cheいう guy che per raccontare, anche con il giornalismo,